non solo per i tracker certificate non solo per i certificati aleva ma anche per queste iniziative e anche per la nuova newsletter weekly note che ho visto avete rivisitato proprio questa settimana si l'abbiamo rivisitata in un format nuovo vogliamo fare un punto della settimana precedente un punto e le prospettive della settimana futura abbiamo lavorato quindi di fatto un mix tra le due precedenti newsletter che erano l'investment idea e la weekly note uscita martedì e giovedì adesso usciamo di lunedì e andiamo lo scopo era proprio di creare un un format che desse la possibilità all'investitore di capire quello che è successo e anche di come impostare eventualmente le proprie strategie sia di breve perché si tratta parliamo sia di prodotti aleva che prodotti investimento quindi anche di medio lungo termine e sì abbiamo iniziato da poco l'hanno impostato così e volevo semplicemente ricordare che oltre ai canali ufficiali quindi alle nostre demma di iscriversi alle nostre newsletter abbiamo anche un nuovo canale social che potete trovare come primo banner eccolo lo stai facendo vedere a portata di mano in questo canale ci teniamo a tenervi aggiornati ma non solo sulle novità di casa fontobel quindi non si parla anzi si parla molto poco di prodotto ma più di novità di quello che sta succedendo sui mercati finanziari proprio per dare la possibilità anche a chi ha meno tempo per informarsi su base quotidiana di avere almeno un punto mattutino e pomeridiano in chiusura oltre a quelle che poi sono le notizie flash e importanti che possono essere market mover ammetto che mi sono iscritto anche io visto che sta crescendo bene il canale fammi un attimo andare siamo a 200 a 200 iscritti in una settimana quindi direi che è stato per ora un successo continuate ad iscrivervi ci fa molto piacere molto semplice andate su telegram fontobel certificati vi esce il canale ufficiale e e Grazie a tutti